Come era facilmente prevedibile, sale il numero dei casi di pazienti contagiati dal coronavirus in provincia di Sondrio. Soltanto stamane il prefetto Salvatore Pasquariello ha resa nota una cifra, una cifra però già superata di due unità nel pomeriggio. Sono dieci le persone positive, le ultime quattro sono a Sondalo. Quattro casi registrati nello scorso fine settimana. Ai due positivi di Grosio e di Bormio vanno aggiunte due persone, entrambe di fuori provincia, ma risultate positive in valle. Uno sarebbe un turista di Piacenza, abitue di Livigno. Questi quattro vanno ad aggiungersi agli altri sei, gli studenti di Val di Dentro, Gordone, Montagna e Valtellina, e altre tre persone rispettivamente di Albosaggio, Livigno e Sondrio. Ora il nuovo caso di Covid-19 registrato sempre nel capoluogo è il primo a Cosio e Valtellino. Un paziente ricoverato presso una struttura sanitaria fanno salire a 12 il numero dei malati. Ne abbiamo avuto conferma nella tarda serata di ieri, dice il sindaco del capoluogo Marco Scanamellini. Sono stati immediatamente attivati i protocolli previsti, l'augurio che si possa riprendere al più presto. La notizia non deve sorprendere né allarmare, ma rafforza in noi la convinzione che le misure restrittive imposte siano necessarie. La situazione in città e nel resto della provincia è ancora sotto controllo. I numeri sono contenuti se paragonati a quelli di altre zone della provincia, ma dobbiamo impegnarci tutti affinché non si aggravi. La limitazione delle nostre libertà personali è un provvedimento estremo, ma necessario, perché è drammatica la situazione che stiamo vivendo. Non possiamo permetterci leggerezze né superficialità. Atteniamoci alle regole e adottiamo i comportamenti consigliati. Dobbiamo fermare il contagio per evitare il collasso del sistema sanitario, che già ora fatica ad accogliere tutti i malati che necessitano di terapia intensiva. Il comune di Sondrio garantisce un'informazione puntuale attraverso il sito internet e l'app Vivi Sondrio, che si può scaricare gratuitamente. Attivando le notifiche si riceveranno gli avvisi in automatico. Ricordo il numero verde 800 06 55 10, attivo 24 ore su 24, per informazioni e supporto, aggiunge il sindaco Scaramellini. Le chiamate provenienti dal nostro territorio vengono trasferite alla Croce Rossa locale, che interviene con volontari e mezzi in collaborazione con il comune. Con l'impegno di tutti, soltanto in questo modo, potremmo fermare la diffusione del virus. Conto su di voi.